Ciao, sono Mirko Gasparotto, se ancora non mi conosci, sono il presidente del gruppo Arroweld e ti faccio questo video in qualità di creatore di Imprenditore Vero. Questo che ti faccio vedere adesso è un estrapolato di una giornata di formazione straordinaria, di altissimo valore, realizzata proprio da Imprenditore Vero. Goditi questo contenuto e ci vediamo alla fine perché ho una bella, bellissima sorpresa per te. C'è un altro tema, c'è quello del movimento. Io dico sempre che il cuore fa girare il sangue, ma se non vi muovete la linfa non si muove. È come avere, ve lo ricordate, il liquido di raffreddamento senza la pompa del radiatore. Se non avete una Tesla non funziona, ok? Quindi siete imprenditori, utilizzate le conoscenze dei vari cicalini di qualsiasi modo che potete operare, la tecnologia, gli AirPod ce l'avete, non state fermi per più di 60 secondi. Mai e poi mai, chiedo scusa. Dopo 60 minuti generate il 50% di energia cerebrale. Io sono uno figo, sto lì il pomeriggio, dalle 2, dalle 14 alle 18, così zoom, zoom, zoom. Siete dei cricetti che girano in una ruota. Punto. Quindi dopo 60 minuti vi muovete. La provocazione è questa. Quando avete dei dubbi fate uno squat, muovetevi. Non potete muovervi, non è un problema. Puff, fate uno squat. Se io adesso vi metto così, per 15 secondi cominciano a bruciare i muscoli, muovendosi l'80% della linfa non è mossa dalla lingua, è mossa dai quadricipiti femorali. Non posso credere che voi non siate in grado ogni 60 minuti di muovervi 5 minuti. La produttività della mezz'ora dopo è triplicata. Punto. E a fine della giornata e nei giorni successivi il vostro pH sale. Non ci credete? Fate per una settimana. Domani dopo domani provate la saliva. Guardate il vostro grado di acidità. Non fate dieta. Godetevi un weekend con equilibrio. applicate quello che abbiamo imparato. Vi salirà il pH di 0,1, 0,2. E mi dirai, ma chi se ne frega 0,1, 0,2. Stiamo parlando di logaritmi. Ogni 0,1 siete doppiamente alcalini. E questo è secondo me fondamentale, perché senza questo tipo di vita siete quella palude lì al centro. E poi pensate che sia normale. e la tenete in sostentamento con le ghiandole surenali. Quelle servono per fare altro. Un imprenditore che viaggia con le ghiandole surenali è come un imprenditore che viaggia senza il controllo di gestione. Punto. È inutile che stiamo a girarci. Per fare un protocollo di alcalizzazione basta un quarto d'ora alla settimana. Qualsiasi cosa vi propongano, io vi esorto a guardare ciò che mangiate e mangiare ciò che trovate nei campi. Non è la metanfetamina, non è la chimica artefatta. In Israele si dice che la chimica si vende e non si mangia. E quello che dico io a voi è leggete bene il libretto, chiedo scusa, la lista degli ingredienti. Quello che non conoscete non fatelo. Se non capite qualcosa non fatelo. Un'ultima cosa che era un piccolo regalo che volevamo fare, e assolutamente vi chiedo di fare una foto se volete, accedete a una coaching gratuita del nostro team, ma vi prego, siete imprenditori e professionisti seri, per avere una risposta chiara, compratevi le cartine di tornasole, fateci gocciolare due gocce di saliva, chiamate e dite, questo è il mio pH, questo è il mio problema, questo è il mio obiettivo, che soluzioni hai per me? Io penso che sia il massimo del valore che si può dare a una persona. Da lì in poi è tutto un percorso di alcalinizzazione. Grazie Alec. Vi ringrazio tanto. Salome. Aspetta, aspetta, aspetta qua, aspetta qua, aspetta qua, aspetta qua. Grazie. Io 2016 ho fatto con lui, poi con lui, cioè lui mi ha hackerato il fisico. No, no, veramente, perché ogni volta chiedo, cazzo, andiamo oltre, no? Mi ha fatto lavaggio la ghiandola, pineale, cosa facciamo? Lavaggio del fegato. Ma sei sicuro, Mirko? Sì, fammela fare, voglio vedere, voglio fare. E io continuavo a far prove con lui, no? Ci sono stati momenti in cui a luna di notte ero al massimo dell'efficienza. Mi chiamava Tania a chiedermi come si spegne. No. Oh, veramente, un senso di produttività pazzesca. Quindi, io quando mi sono attaccato a lui dal punto di vista proprio di reattività, di possibilità di avere efficienza massima, credetemi, cambia completamente. Non hai pagato il biglietto, Tania, dai, per piacere. Allora, la produttività è alla base di tutto. Di tutto. Se state bene, lui mi ha insegnato a star bene. Mi ha insegnato a star bene. Io sarò un testimone a vita perché mi ha cambiato la vita. Che è una roba diversa. Cioè, sto bene. Sto perfettamente bene. E stare bene è alla base di tutto. Però ci vuole disciplina. Ci vuole disciplina. Un quarto d'ora lo dovete investire sul vostro corpo. Ci vuole autocontrollo. Ci vuole metodicità. Ci vuole... Cioè, inutile che uno provi il booster e dopo al terzo mattino dice no, sotto i coglioni, ruttare, via, lascio stare. Perché è così, no? E nel terzo mattino dice no, cazzo, tutte le mattine devo fare... No, è così, no. E se vuole il risultato, questo è il discorso. Non è che sia, no. Lui combatte a 50 gradi, lui insegna a Krav Maga, combatte a 50 gradi prendendo le legnate, cioè, caofisico, cazzo, che è una roba pazzesca, no? Io ho detto, voglio diventare meglio di te. No, è impossibile questo, sicuramente è impossibile. Io non posso... Però, però, avere una forza psichica, sì. Prendete... Lui mi ha dotato di una capacità e resilienza, di resistenza alla difficoltà. Alla difficoltà, perché io vivo nella difficoltà, nella pressione quando tu hai tanti problemi, hai tante situazioni e hai tante persone che si aspettano tanto da te, eccetera. Lui mi ha insegnato ad essere sempre pronto. Pronto dal mattino alle 8, pronto alla sera alle 10, la stessa maniera. Grazie Alex. Grazie a te. Grazie a tutti. Avete delle domande? Avete delle domande sull'intervento su, mi sembra? Sì. Eccolo. Sì, ciao. Ciao. Aspetta che per la gestazione c'è. Grazie. Al volo. Per i bambini, tantissimi sono resti a dare consigli, a capire come tutti, insomma, pensano a mangiare bene loro, che siamo i genitori, ma ai bambini gli diamo cotette di pollo, patatine, hamburger, eccetera. Quindi, cosa consiglieresti per portarli in una strada con più conoscenza, più coscienza? Guarda, ti ringrazio per la domanda. Quello che abbiamo visto oggi, e io l'ho detto prima, la prima contaminazione è quella della famiglia. Senza la famiglia non c'è impresa, non c'è socialità, non c'è nulla, oggettivamente. Siamo incarnati per quello. Quindi, quello che hai imparato, quando lo condividi con la tua compagna, quando lo applichi con i figli, è metà dell'opera. Considera che loro hanno 10-15 anni. Quindi, rispetto a noi, hanno mangiato un secolo di zucchero. Quindi è molto più semplice, no? Ripulirli. Magari quel booster, visto che stiamo parlando di volumi molto piccoli, diventa un mini booster. Mezzo limone, un terzo di limone, un cucchiaino da caffè di bicarbonato. Lo fa la mamma, lo fa il papà. Non fa assolutamente male. Si gioca e si ride con questo Alcabarbor. Ok, ma avere dei genitori che ti riordinano pranzo e cena in maniera consapevole è un dono incredibile. È vero che in tre mesi noi cambiamo il 90% delle nostre cellule. Quello che hai visto oggi, a luglio, non è più Alex. A parte l'endoscheletro, non ci sono scuse. Possiamo ripulire tutto. E lo misuriamo. Comprerete le cartine, giusto? Ma è anche vero che prima parto meglio è. Anche perché questo vuol dire non avere infiammazioni, avere più attenzione, non avere iperattività, ipercinetismo, malattie autoimmuni. Potete digitare ovunque il nesso causale tra l'infiammazione, ovvero sia l'acidità, e tutte le malattie. Quindi benvenga di condividere queste conoscenze con i ragazzi. Ne parlate con il dietologo, scusa, con la pediatra, immagino, per i ragazzi. Però non c'è nulla che confligge con la moderna medicina e dietologia allopatica. Quello che non ci raccontano, e ti ringrazio per la domanda, e ce lo fissiamo bene in testa, non è quanto mangiare, è come e quando. È lì il discriminante, è il cosa. Io, col litro di vodka e di sciroppo di glucosio, sono state male, i miei amici no. Quando tu hai questi tre driver ben chiari, non puoi sbagliare. Poi, ovvio, hai un'infiammazione, vuoi una verticalizzazione, ti vuoi togliere metalli pesanti. Oggi abbiamo 30 grammi di metalli pesanti a testa, invece che 10 rispetto agli anni 50. Cioè, non è il problema delle 5G, è che noi siamo delle antenne. Ho fatto quattro tipi di chelazioni diverse di metalli, e lui anche perché prendeva la metformina, quindi era a base di metallo. Abbiamo la celiachia, il glutine, eccetera, ma possiamo andare avanti un'ora. Ti fai seguire dal medico, ma non è altro il fatto che il pH del tuo intestino da 8,4 e 7,4 era una savana, chiedo scusa, una foresta pluviale è diventata una savana. E avanti così. La prima volta che io ho mandato i miei esami al mio medico di sempre, dopo 3-4 mesi, mi telefona, mi dice, uè, pirla, come ti faccio pirla? mandami gli esami tuoi, non mandami gli esami di qualcun altro, cazzo. Questi qua non sono i tuoi esami. Ho detto, Alberto, questi sono i miei esami? Cioè, era incredulo. Sì, un grande stato di infiammazione, in realtà non era peso, ma era infiammazione, ha perso 20 chili in 3 mesi, ma non venite a fare un protocollo di alcanizzazione per perdere chili, è la conseguenza. Il focus è energia, disinfiammazione, difese immunitarie, benessere. E poi la conseguenza è quello che si vede. Quindi grazie. Oh, e bevo ancora tanto, nel senso che non è che solo domande. Se ti è piaciuto quello che hai visto, Imprenditore Master ti farà letteralmente impazzire. Il 23-24 di ottobre terremo un evento interamente online, quindi puoi vederlo da casa tua, sostanzialmente. Due giorni, 17 relatori e oltre un miliardo di euro che erogherà la propria esperienza proprio per te. L'evento più importante dell'anno per imprenditori, professionisti, artigiani, insomma persone che vogliono fare impresa. È il primo evento che è realizzato e focalizzato su sei aree di primaria importanza per tutti coloro che vogliono creare valore. e sono mindset, resilienza e produttività, raccolta di capitali e gestione dei numeri, acquisizione clienti e processo di vendita, management, delega, leadership, fiscalità, gestione della tua attività, gestione ed investimento del denaro che è importante perché se fai il grano è importante anche che poi lo vai a gestire. siamo oltre 300 in questo preciso momento in cui vi sto parlando e hai la possibilità di accedere a due giornate straordinarie a 347 euro al posto di 6,47 che è il prezzo ufficiale. Questa offerta è valida solo per 24 ore quindi avrai anche la garanzia di soddisfatto rimborsato dopo il primo giorno tu mi conosci e sai le cose che ho fatto nella vita e l'efficacia e l'efficienza con le quali le metto in opera clicca il pulsante qui sotto per parlare con il mio team e avrai tutte quante le informazioni. Ci vediamo a Imprenditore Master 23-24 ottobre a presto